Allora, ricominciamo e cerchiamo di capire bene questo meccanismo delle closure che vi ho accennato prima della pausa. Ok? Quindi proviamo a rileggerci la definizione che magari a questo punto c'è più chiara dopo aver visto l'esempio. Quindi la closure è il nome dato a una caratteristica del linguaggio per cui una funzione annidata dentro un'altra funzione. Ok? Questa funzione annidata eseguita dopo l'esecuzione della funzione esterna si ricorda, cioè può ancora accedere allo scope della funzione più esterna. Il greeter era la funzione più esterna e l'ello è la funzione annidata. Ok? Quindi, guardiamolo sulle slide. Greeter è la funzione esterna, ello è la funzione annidata. Hello dopo che greeter è stata eseguita può ancora accedere a my name. Ok? E al my name giusto, se ho eseguito greeter due volte con due valori diversi, come ho fatto sotto, Tom e Jerry, la hello, di cui ne esistono due, perché ogni volta che ho eseguito la greeter è stata creata un nuovo oggetto funzione con questo codice, ricorda il riferimento alla variabile giusta, quella dello scope nel quale è stata creata. Ok? Infatti, se le chiamo l'una e l'altra, mi stampano due cose diverse, perché si ricordano il riferimento alla variabile giusta del loro scope. Ok? E questo è importante, perché? Perché nel momento in cui noi prendiamo una funzione, la passiamo come parametro a un'altra, facendo quello che abbiamo detto prima, la callback, questa funzione non sappiamo quando verrà eseguita. Ok? Però quando verrà eseguita, noi siamo sicuri che ha a disposizione lo scope che abbiamo messo intorno a quella funzione quando l'abbiamo creata. Ok? Per esempio gli event handler e così via. Avranno a disposizione l'accesso a degli oggetti di cui hanno bisogno, anche se non siamo più in quel pezzetto di codice dove avevamo definito l'oggetto. Ok? Questo è un meccanismo assolutamente importante. Quindi qui trovate tutta la spiegazione. Se volete, per chiarirvi le idee, se vi semplifica la vita, pensarla in questa maniera, pensate come se aveste un puntatore a questa variabile MyName. Questo puntatore continua a esistere dentro Ello. Ok? E continua a consentirvi di accedere alla locazione di memoria dove c'è il valore di MyName. Ok? Ci sono due puntatori, due frecce, diciamo così, che accedono a due locazioni di memoria differenti dentro la memoria di JavaScript. Ok? Queste locazioni sono accessibili solo più in quella maniera, perché l'altra maniera, che era quella di essere nello scope dove è stata definita la funzione, è sparito, perché la funzione è terminata. La gritter è terminata. Ok? Questo solo se vi semplifica il ragionamento. Ecco, ne approfitto per dire una cosa, perché l'altra volta qualcuno mi ha chiesto, non lo voglio mai dire troppo esplicitamente, perché complica e non aggiunge granché, però, quando finiscono i riferimenti a una variabile, cosa succede a quella variabile, a quell'oggetto e così via? Qualcuno si è mai chiesto cosa succede se, appunto, noi abbiamo un array, let v uguale l'array, dentro una funzione, e poi la funzione termina. Che fine fa quell'array? Quindi, nessuno ci può più accedere, no? Non c'è più un riferimento. Boh, sparisce. Sparisce come? Col garbage collector. Tutti i linguaggi che non hanno una gestione esplicita della memoria come il C, e non vi consentono di farla free, quindi della memoria, hanno un garbage collector. Quando rilevano che non c'è più nessun riferimento in giro, liberano la memoria. Ma se c'è una closure, quella memoria non viene liberata. E l'interprete, no, lo sa che c'è la closure. Perché lo sa che c'è ancora un riferimento in giro a quella casellina di memoria, in questo caso di my name. Ok? Chiusa parentesi. Non è indispensabile per capire questo meccanismo, però magari vi aiuta, eh? Se pensate a come potrebbe funzionare l'interprete. Le closure sono il meccanismo per tenere le cose private. Quindi con questo meccanismo possiamo metterci a emulare tutta la programmazione oggetti classica. Però la emuliamo. La programmazione oggetti classica si basa sul fatto che io definisco l'oggetto e ho delle proprietà private. Nessuno me le tocca al di fuori di me che ho definito l'oggetto usando i metodi che ho definito io. Quindi se io mi faccio un contatore, non è che arriva uno e mi mette il valore che vuole. Perché il contatore è privato. E può usare solo i metodi che metto a disposizione. Che so, get next e mi dà il valore e mi incrementa di uno. Oppure, che so, mi faccio count, incrementa di uno, reset me lo riporta a zero. Non è che c'è uno che me lo può mettere a diecimila. Perché? Perché non è accessibile al di fuori. E questo nei linguaggi tradizionali si fa scrivendo private counter uguale a zero. Private non esiste in JavaScript. È tutto pubblico. Tranne ciò che riusciamo a nascondere. Come con le closure. Quindi, esempio. Vogliamo farci un contatore. Come se fosse un oggetto. Un oggetto in cui ho un metodo da chiamare che mi incrementa, mi dà il valore e me lo incrementa di uno. Come faccio a creare questo oggetto che ha la cosa nascosta? Devo fare una funzione. Non c'è altro modo in JavaScript. Function counter valore zero. Quindi questo è dentro lo scopo della funzione. Per cui quando la funzione finisce sarà inaccessibile a chiunque altro tranne alle funzioni definite lì dentro. Cost get next uguale Questa è una funzione. È un arrow function. Non prende parametri e ha un codice che fa due cose. Value più più che è accessibile Return value Ok? Return get next ritorno get next Non con le tonde. Io ritorno la funzione non ritorno la chiamata la funzione. Se ritorno la chiamata la funzione ho perso tutto. E ho usato la funzione l'ho usata una volta è finita non mi serve più. Quindi se io faccio counter in count 1 ci finisce la funzione get next che è l'unica che è in grado di fare accesso a value e ogni volta che la chiamo farà quello che deve fare mi fa value più più return value e quindi la prima volta mi fa 0 mi fa più più 1 e mi da 1 la seconda volta fa più più 2 e mi da 2 la terza volta fa più più 3 e mi da 3 e così via e se io chiamo counter di nuovo creo un secondo value creo un secondo get next indipendentemente dal primo ok sono nascosti sono indipendenti ho trovato il modo di creare diciamo così gli oggetti con le cose nascoste indipendenti non sono proprio oggetti in realtà sono funzioni però sono l'unica maniera che abbiamo di nascondere valori all'interno di qualcosa voglio fare un oggetto più complicato posso farlo e lo chiamo oggetto ma in realtà appunto in javascript è una funzione n questo è il value di prima n return posso ritornare un oggetto qui faccio return aperta graph count 2 punti rese 2 punti 2 proprietà 2 proprietà che sono 2 funzioni quindi qui vediamo un oggetto che ha delle proprietà che in realtà sono quelli che noi chiameremmo metodi perché sono dei riferimenti a funzione una funzione fa più più e l'altra funzione fa n uguale a 0 e poi e poi le posso usare c uguale a counter d uguale a counter e sono due cose diverse perché perché sono due n diversi che oramai sono inaccessibili ma nascosti dentro la funzione e e poi ci uso i metodi che mi hanno dato ci saranno due proprietà quindi se sono proprietà che fanno riferimento a una funzione li posso chiamare aperta e chiusa tonda prima volta mi da 0 perché era il valore iniziale quindi però mi fa più più e tu un n più più vuol dire dammi il valore e poi ci fai più più prima lo facciamo in anticipo quindi qui è dopo quindi qui all'inizio è 0 ma la seconda volta non c'è la seconda volta qui su dice la seconda volta la seconda volta che chiamo viene fuori 1 la terza volta che chiamo avrà fuori 2 e così via quando chiamo 0 mi mette n uguale a 0 di quale dell'oggetto giusto no lo chiamo oggetto ma in realtà la funzione con la sua scope che è accessibile però solo più da queste funzioni che ho creato nel momento in cui è stata chiamata la prima volta la funzione esterna ok pensateci un po' sopra lo capisco che non è che possiamo così oggi oggi abbiamo imparato le closure e in 5 minuti abbiamo capito tutto provate questo codice ragionateci su oggi non facciamo esercizi sulle funzioni perché le abbiamo introdotte mezz'ora fa ok facciamo un po' di esercizi sugli array però la prossima volta proviamo a fare esercizi sulle funzioni ancora due parole sulle funzioni due parole di teoria poi andiamo a fare un po' di pratica pratica intendo proprio provare a risolvere un esercizio in javascript in stile javascript io sono sicuro che quell'esercizio che ho messo in line è in grado di risolverlo basta usare lo stile c fori uguale a 0 ma non è la maniera che vogliamo imparare ok altra cosa un po' particolare di javascript io definisco una funzione mentre la definisco la chiamo pure si fanno queste cose se io definisco una funzione una function leta uguale a 3 console log ho scritto qualsiasi cosa dentro la voglio chiamare posso farlo ci metto due tonde davanti e dietro per riuscire a dire che chiamo che cosa ciò che c'è nella tonda precedente queste tonde cosa sono un po' violetto forse non so non troppo si chiamano funzione IIFE cioè immediately invoked function expression espressione e funzione chiamate immediatamente mentre la definisco la chiamo ok qual è il vantaggio di fare un'operazione in questo tipo beh in una funzione così semplice non c'è alcun vantaggio ma la funzione è la maniera per nascondere tutte le vostre variabili quindi se qui dentro anziché leta a 3 ci avete tutte le vostre variabili del vostro modulo che volete non so creare per già per essere sicuro che nessuno vi venga a pestare i piedi su queste variabili a modificarle a toccarle eccetera mettete tutto dentro una funzione la chiamate ci e ciò che resta è solamente ciò che avete voi messo nel return ok accessibile tramite i metodi che voi avete passato nell'oggetto che avete messo come return come abbiamo fatto prima no questo metodo qua questa è la maniera l'unica maniera che esiste in javascript di isolare del codice da altro codice no e del motivo per cui lo vediamo in realtà noi a livello pratico non lo faremo mai ok però questa è la maniera che usano i moduli javascript per isolarsi l'uno dall'altro ok visto che parlavano di funzioni non ci piaceva citarlo ok io vi ho detto all'inizio del corso ogni programma javascript è un file differente quando devono parlarsi hanno bisogno dello stato globale ok però lo stato globale si porta sempre appresso il fatto che devo fare attenzione a non aver chiamato la variabile mia come quella degli altri se io riesco in qualche maniera a incapsulare tutto quello che ho fatto e fare in modo che nessuno per nessun motivo possa toccarmi le mie variabili e comunque mettere a disposizione qualcosa quindi dei metodi per usare quello che ho fatto sono in grado comunque di far parlare programmi javascript differenti senza problemi voi scrivete alla vostra libreria che ne sapete se domani arriva un altro e chiama le variabili con lo stesso nome se io voglio incapsulare le cose questa è l'unica maniera questo è quello che viene usato sotto il cappello dei moduli in javascript quando useremo i moduli cioè sostanzialmente tutte le librerie che andiamo a usare per evitare che interferiscano tra loro essere sicuri anzi che non interferiscano tra loro ok quindi se io definissi quel c quel oggetto di prima lo definisco ci metto le tonde lo chiamo subito e chiaramente ne posso creare solo uno perché se non gli do un nome non gli do un riferimento non è che posso creare due contatori però ho fatto in modo che nessun altro possa toccarmi il mio contatore ok ci ragionate sopra con calma ultima cosa sulle funzioni abbiamo detto che si potevano definire ancora in un'ultima maniera che erano la funzione costruttore no scusate questo ultima cosa sugli oggetti avevano detto che gli oggetti si potevano definire ancora in un'ultima maniera che era usando la funzione costruttore però non avevamo ancora visto le funzioni adesso che le abbiamo viste diciamo come funzionano per definire l'oggetto facciamo così creiamo una funzione function di solito con la lettera maiuscola ma più che altro per non confonderci noi l'interprete non si confonderà mai ma il programmatore si quindi quando vogliamo usare questo stile di solito mettiamo la prima lettera maiuscola e poi dentro la funzione usiamo questo this che sarà poi oggetto di una lezione separata che è molto particolare in javascript this punto come se fosse un oggetto un oggetto già pronto già usabile ci creiamo le proprietà che vogliamo ci mettiamo dentro quello che vogliamo numeri string boolean array funzioni pure delle funzioni questa è una funzione non prende parametri freccia e ritorna un valore boolean year maggiore di 2000 ok vero falso ritorno e poi come faccio a creare l'oggetto che è il punto da cui sono partito esiste la parola chiave new come si fa in molti linguaggi di programmazione per creare un oggetto dalla classe questa sarebbe la classe faccio new classe con i parametri del costruttore e mi viene fuori l'oggetto e qui viene fuori un oggetto javascript qual è la differenza dei linguaggi di programmazione classici a oggetti che non ho la classe questa non è una classe questa è una funzione l'oggetto che creo non ha un tipo non ha il tipo car non esiste il tipo car in javascript non esisterà mai esistono solo oggetti ok ci saranno poi delle sottigliezze ma se non facciamo programmazione oggetti è inutile stare qui con i prototipi e compagnia però diciamo che alla fine in my car mi viene fuori una cosa come se io avessi scritto aperta graffa make due punti qualcosa model due punti qualcosa is new due punti la funzione no e questa funzione la posso chiamare quindi se io poi faccio my car punto is new aperta chiusa tonda mi darà true o false seconda che in my car year ci sia un valore sotto o sopra 2000 ok questo è utile saperlo perché come dire è un pattern di programmazione un po' più familiare molti dicono ma vabbè io voglio sviluppare il mio programma che so c'è da fare dunque cosa che abbiamo da fare non so i miei esami voglio rappresentare voglio fare un modello di dati dei miei esami allora ho l'oggetto esame no l'oggetto esame ha codice esame nome esame voto data di superamento e così via no sono proprietà di un oggetto perché non posso farli con lo stampino no questa è la maniera di farli con lo stampino però non avete una classe quindi non è che avete definito la classe il template esame e poi lo create ma è una sintassi un po' più familiare e forse un po' più leggibile alla fine ottenete la stessa cosa e quindi la citiamo più che altro per questo motivo no perché a qualcuno piace il pattern di programmazione oggetti vuole mantenerlo il più possibile ed è giusto così probabilmente e questo vi forza un po' a usare il pattern di programmazione oggetti come se steste creando un oggetto da una classe un costruttore ok due velocissime parole per non tornare sulle slide sulle date perché le troverete se non nel primo sicuramente nel secondo laboratorio che sono un tipo di dato un po' particolare prima o poi ci abbiamo a che fare con queste date quindi tanto vale impararlo e intanto impariamo anche una cosina che così vediamo in nel in viso studio code e in node ovviamente non mettetevi a scrivere codice voi per gestire le date perché tanto si sbaglia si perde solo tempo e non è incluso nel tempo che noi riteniamo sia necessario usare per fare l'esame quindi se c'è da gestire una data all'esame ci aspettiamo cosìate una libreria ok c'è l'oggetto date dentro javascript che ha un sacco di problemi purtroppo è nato male e mille problemi dal fatto che voi siete su una certa time zone quindi siamo in italia non è utc non è greenwich quando fate il parsing non sapete mai se ci ha messo dentro il tempo locale il tempo di greenwich e tutti questi pasticci qua quindi come facciamo a gestirlo potete provare a usarlo se volete fare una prova tra l'altro funziona come abbiamo appena detto vi crea proprio l'oggetto in cui non ci mettete mano perché poi usate i metodi che vi mettono a disposizione però vi crea l'oggetto proprio in questa maniera col new potete farvi dare un oggetto che rappresenta una data in javascript ok però io vi sconsiglio di usarlo e vi consigliamo di usare una libreria ce ne sono tante questa è quella che al momento consigliamo un po' di anni fa consigliamo moment ma è stata un po' deprecata moment.js in realtà questa qui sotto è stata un po' deprecata sapete che gli sviluppatori ogni tanto bisticciano non sono d'accordo questo è tutto codice open source quindi se uno si scoccia fa il fork e alla fine ne esistono due versioni una non è più mantenuta insomma succede un sacco di pasticci è successo uno di questi pasticci niente quest'anno noi vi consigliamo di usare dei js ok questo è un sito web andate lì ve la ve la guardate perché poi per installarla si useranno questi comandi e che poi proviamo dopo alla fine della lezione in visual studio code ok in realtà sono comandi node ok ce ne avete perché avete installato node però li vediamo diciamo tutti insieme così da poter usare qualcosa di un po' più comodo ok trovate degli esempi io non starei qui a perdere tempo su questi esempi diciamo ogni libreria che gestisce le date avrà la sua maniera di rappresentare una data di farvi che sono la differenza tra due date di cambiarvi il giorno il mese l'anno formattarvi la data leggere le date da una stringa e tutte queste cose qua ok quindi adesso non non ci perdiamo tempo però volevo dirvi che gli oggetti sono sostanzialmente anche gestibili da delle librerie che noi poi possiamo andare a usare installare provare e così via ok ovviamente nel momento in cui usiamo l'oggetto creato da una libreria la cosa migliore non è andare a pacioccare direttamente nell'oggetto anche se si può fare però è usare i metodi forniti poi dalla libreria indipendentemente dal fatto che è tutto pubblico come vi dicevo però cerchiamo di usare diciamo quello che ci viene messo a disposizione perché è la cosa più intelligente allora lasciamo perdere questo per ora e quindi le slide per oggi le abbiamo finite andiamo a vedere se intanto sta registrando perché con questa voce se non registra sto fresco e andiamo sul github dove vi ho messo dentro exercises quindi siamo in av1 wix wix01 exercises c'è un file un file di testo l'ho chiamato md perché perché in realtà esiste questo linguaggio di markup che si chiama come si chiama md era markdown markdown format che è una maniera molto semplice di creare del testo un pochino formattato ok anziché usare l'html che vedremo nelle prossime lezioni che è un po' macchinoso c'è questi tag minore maggiore eccetera qui se io voglio fare un titolo ci metto una sottolineatura se voglio fare un sottotitolo ci metto il cancelletto davanti eccetera insomma è molto semplice voglio fare il grassetto metto asterisco all'inizio e alla fine e mi faccio il grassetto e così via ok è una cosa utile da conoscere perché secondo me vi torna utile anche in altri posti e poi molti sistemi la interpretano automaticamente per esempio qui vedete mi fa vedere il preview fatto bene ma questo è il testo grezzo nel senso io ho scritto un file di testo quando si carica in cui meglio l'ha scritto i miei colleghi io l'ho copiato però cioè per fare il titolo ci ho messo cancelletto e arrivederci voglio fare la sottolinea tua mi sembra sia la sottolinea tua metterla underscore e via voglio fare una lista io la faccio come se scrivesse in testo poi però quando vado a vederlo mi viene fuori la lista ben fatta puntino sottopuntino tutte queste cose qua ve lo dico perché poi vi chiederemo di scrivere un readme quando consegnate il progetto in questo formato non è che diamo un voto diamo un template in realtà basta riempirlo non è che c'è chissà quale scienza da usare per riempire questo template però appunto fare un po' di pratica non è male darci un'occhiata non è male perché nel readme del progetto dovrete descrivere che so ci sono questi componenti ci sono queste tabelle ci sono queste API c'è un minimo di documentazione del progetto ok così che quando discutiamo insieme non è che devo tirarvi fuori con le pinze la lista delle API che magari manco vi ricordate giustamente l'abbiamo lì e possiamo darci un'occhiata insieme e chiarirci le idee ma avendo qualcosa di scritto ok quindi se non avete dubbi proviamo a muoverci e fare il primo esercizio quindi è scritto in inglese vabbè amate pazienza ma insomma non penso sia troppo un problema scopo è gestire un po' di array adesso facciamo solo più array e gli oggetti e le funzioni che abbiamo introdotto stamattina la prossima volta che facciamo un po' di esercizio li useremo ok però visto che abbiamo introdotto stamattina mi sembra un po' eccessivo mettersi già lì a giocare con quelli tranne provare quindi sviluppiamo un piccolo programma JavaScript per gestire i voti dati dagli utenti in un sito di domande risposte tipo lo stackover potete fare più uno meno uno più qualcosa delle risposte i voti sono dei numeri interi che possono essere positivi negativi definiamo un array con dei numeri positivi negativi e ci pacciuchiamo un po' sopra quindi lo mettiamo direttamente nel nostro codice non è che leggiamo da tastiera eccetera perché se no non finiamo più è inutile JavaScript non è nato per leggere la tastiera neanche il C tanto però almeno alla scanfa si fa prima e poi duplichiamo l'array ci pacciuchiamo sopra nel senso che togliamo tutti i numeri negativi contandoli eliminiamo i due più bassi i due voti più bassi quindi questo ci richiederà di ordinare l'array così facciamo una prova di ordinare eccetera e poi aggiungiamo nn più due voti alla fine dell'array con un valore uguale alla media arrotondata dei voti esistenti stampiamo entrambi gli array e così tanto per fare una prova quindi allora andiamo a scrivere un po' di codice come facciamo allora ve lo faccio dentro exercises quindi andiamo a creare un nuovo file lo chiamiamo come che l'avevo messo scores jss ok quindi questo file è vuoto use strict è la prima cosa che scriviamo strict poi mi faccio il mio array const seguo un po' una traccia più che l'altra per evitare di piantarmi su cose che ci fanno perdere tempo e per anzi facciamo così facciamo che copio direttamente che facciamo ancora prima perché ovviamente ho già un po' di soluzione prendiamo questi scores ok copia spero non sia troppo antipatico che copio dai cose che sono già fatte però mano a mano che andiamo avanti magari ci viene un'idea diversa a voi viene un'idea su come risolvere la cosa la proviamo la proviamo subito live ok allora la prima cosa che ci veniva chiesta nel testo era quindi abbiamo messo gli score direttamente nel codice va bene ignora il question perché poi questo esercizio dovremmo portarcelo un po' avanti nel corso quindi questa cosa è l'inizio di un qualcosa che ci portiamo avanti duplichiamo l'array ma in questo array dobbiamo poi fare delle operazioni la prima cosa duplichiamo l'array come facciamo a duplicare l'array facciamo un nuovo array const diciamo modified scores perché suggerisce scopiazza dall'altro vabbè ok come facciamo a duplicare l'array array from ok from ci piace my scores ok ok quindi salvo ovviamente se eseguiamo questo codice non ci viene fuori niente io adesso devo entrare in exercise sai qui intanto ne approfitto per dirvi due cose scorse non viene fuori niente perché perché non ho fatto console log no se faccio console log all'inizio va bene si progava un po' con le print no modify scores vediamo se ho fatto giusto sì diciamo dovrebbe funzionare ok allora cos'è questa shell qualcuno mi ha chiesto in intervallo perché fa qui dentro come ha collegato node con visual studio code eccetera non sono collegati in questo momento cioè io se entro qui dentro questa è la shell di linux ho aperto un terminale come potete aprire il terminale in windows in mac ho installato node a casa questo sì scaricando il pacchettino come da istruzioni per linux o voi lo fate da windows fate da mac fate come volete avete il comando node sulla shell come avete il comando python se avete python e così via quindi se io sono qui dentro io posso fare la stessa cosa che faccio nel in visual studio code solo che ho la comodità di avere la shell dentro perché mi serve il visual studio code perché è chiaro che cioè così esegue e basta e se ho un problema devo andare avanti a forza di print cioè a forza di console log a cercare la soluzione cosa c'è che non va che punto non va eccetera se sono dentro un ambiente sperabilmente ho la possibilità di fare un po' di debug ok come faccio a fare il debug diamo un'occhiata dunque la cosa migliore è avere un unico programma per cartella in questo momento non abbiamo tante quindi ogni volta che cambieremo programma dovremo cambiare la configurazione del debug però diciamo che inizialmente ci accontentiamo un po' per eseguire il codice devo andare a prendere questa questa iconina o dal menu c'è run eccetera creare una configurazione questa è la cosa più semplice perché se fate direttamente launch magari c'è qualche parametro o qualcosa che non funziona create una configurazione node.js potete fare tante cose ma lasciamo perdere node.js vi viene fuori un file creato automaticamente e l'unica cosa che dovete verificare è che il file che viene eseguito sia quello che volete voi perché se no poi ne ho lanciato un altro ok va bene questo file è stato creato se torniamo sui file è lì inascosto in questa directory inascosto .vscode ok ma cosa capita adesso capita che se io premo su launch nella console mi viene eseguito il mio codice ma soprattutto se io vado a prendere che ogni chiudiamo un po' di roba vado a prendere il mio programma e ci metto il breakpoint o comunque ci metto qualcosa che me lo ferma posso debagarlo che è sempre una cosa utile perché è perché tra mettere le print a destra e a sinistra e eseguire ad esempio il programma e fermarsi e andare a ispezionare le variabili chiaramente c'è una bella differenza in termini di efficienza del lavoro quindi lo lancio e mi si ferma e mi si ferma e qui a sinistra ho la possibilità di andare a vedere perché questa non si abbassa e chiudiamo i watch ecco ho la possibilità di andare a vedere ciò che è a disposizione nell'ambiente in questo momento non c'è niente perché ho fermato sulla prima istruzione quindi c'è tutta roba che non mi dice niente che è la roba predefinita e non ho bisogno di andare a esplorare però dopo che eseguo la prima istruzione col passo passo spunta un myscores che è un array di 8 elementi in cui vedo i vari elementi ok c'è anche la proprietà length 8 tra l'altro che è quella che vedevamo nelle slide dopo che vado avanti spunta un modify scorse in cui ho questa copia ok qui non vedo le frecce questo non è il python tuto quindi non vedo se è lo stesso riferimento eccetera devo saperlo io ok vabbè il console log non è che ha tanto da mostrare perché stampa e stampa sulla console ok quindi fermiamo il tutto diciamo che se non avete problemi potete usare il terminale e fate prima senza tante configurazioni eccetera se invece volete mettervi lì a debuggare lo facciamo e insomma proviamo ok quindi abbiamo imparato a fare un minimo di debug che vi tornerà utile quando fate le vostre prove mi consentite di fare un po' ancora una modifica array from va benissimo e non c'è niente di male a scrivere array from ma come vi dicevo cerchiamo di essere il più javascript possibili usiamo l'operatore spread ok è la stessa cosa il risultato è uguale quindi salvo sempre la stessa cosa ho una copia come abbiamo visto nel python tutor questa è una copia se io scrivo my score se basta non è una copia è la copia del riferimento l'array è lo stesso e mi perdo l'originale perché adesso vado a pacioccare l'array vado a cambiare i valori ok cos'è che dovevamo fare dovevamo ordinarli giusto perché perché ci serviva per in realtà non c'è scritto di ordinarli ma volevo eliminare tutti i negativi secondo me i negativi sono sparsi e poi mi serve eliminarli se li metto tutti da una parte poi li elimino anche più facilmente perché così taglio l'array e fine se no devo scorrermi l'array e cancellare i singoli elementi cosa che si può fare però bisogna farci un po' attenzione il delete non abbiamo visto degli esempi con il delete il delete si usa poco non perché sia vietato ma perché di solito ci sono dei metodi un po' più veloci un po' più efficienti allora intanto proviamo a fare un ordinamento che non guasta mai perché l'ordinamento è comunque un'operazione che spesso dovete fare visualizzate su una pagina qualcosa lo volete ordinato almeno un sort bisogna essere in grado di farlo ovviamente non ci scriviamo il sort usiamo il sort per nostra fortuna andiamo su mdn anzi andiamo su google che facciamo sempre prima possiamo anche solo scrivere mdn array sort ok quindi ho scritto mdn array sort o che fortuna gli array hanno un metodo sort meno male se no vabbè se no la cercavano da un'altra parte però ce l'hanno qual è la sintassi beh posso dirgli di fare sort e basta ma come sapete la sort di solito dovrebbe sapere come ordinare per esempio la sort ordina in modo crescente o decrescente devo dirglielo come faccio a dirglielo come in quasi tutti i linguaggi di programmazione la sort prende una funzione che confronta due elementi e questa funzione deve essere in grado di dire qual è quello che viene prima e qual è quello che viene dopo a seconda di come la scrivo posso farle ordinare crescente decrescente e così via ok e questo è esattamente quello che succede anche in javascript quindi noi possiamo prendere la sort chiamandola sull'array e confrontare i vari elementi come passando una funzione stamattina abbiamo fatto le funzioni vi ho detto che non è che le usavamo ma in realtà va bene in qualche piccolo punto le usiamo in maniera semplice però non ci mettiamo a fare la closure ecco quindi modify scores punto sort ci sarà la sort aperta tonda tra l'altro ecco viso studio code è anche abbastanza carino perché ci dà l'help spesso in linea senza neanche che dobbiamo andare nella mdn se abbiamo idea di cosa stiamo facendo la cosa più semplice è passare una funzione che definiamo lì al volo potrei scrivere const funzione uguale eccetera e poi passargli quel valore non è tanto javascript stamattina abbiamo visto le arrow function che sono la cosa più carina proviamo a usare le arrow function quando abbiamo delle funzioni piccole intendo allora arrow function dunque la funzione che si aspetta la sorta è una funzione che prende due parametri che sono i due elementi da confrontare e mi tira fuori un numero un numero perché perché in realtà mi deve dire non se viene prima o dopo ma se mi viene prima dopo o uguale quindi numero negativo zero o positivo questo in tutti i linguaggi di solito è così perché così la sort se gli dico zero non me lo sposta se è un sort come si dice non in place ma stabile se l'algoritmo di sort è stabile non me lo sposta se è uguale va bene comunque questo è un dettaglio l'importante è che noi adesso scriviamo una funzione che prende due parametri e ne ritorna uno che è un numero allora come facciamo a scrivere due parametri apriamo la parentesi tonda arrow function c'era nell'esempio no? questa è già scritta sotto forma di arrow function questo è un e l'help questo non è codice e l'help ci dice guarda prendi a e b lo scriviamo pure a virgola b freccia e ci dai un numero calcolato sulla base di a e b che deve essere deve dirci se a viene prima di b o no allora noi facciamo appunto arrow function a virgola b freccia quindi maggiore o uguale e diamo un valore di ritorno dobbiamo dire se a viene prima di b come facciamo? questi sono numeri non c'è tanta scienza da applicare e facciamo a meno b ok? tutto qui e su numeri se a viene è più grande di b questo numero sarà positivo se a minore di b sarà negativo se sono uguali sarà zero esattamente quello che vogliamo e se no se fosse lo string e fosse altre cose ci mettiamo lì e facciamo la nostra operazione a maggiore di b potevamo scrivere no? e se fosse lo string non ci interessa l'uguale e cose di questo tipo però però occhio che dobbiamo ritornare un numero ok? se no ritorniamo un numero cosa succede? se siete entrati nella logica di javascript occhio non esce un errore non esce mai un errore viene convertito in un numero quindi un boolean viene convertito in un numero ok? quindi funzionerà lo stesso ma al caso zero viene trattato in maniera come gli piace è la conversione ok? quindi non è una funzione come nei linguaggi strongly typed tipo c che se io ho definito che la puntatura funziona ritornava int deve ritornare un int se no mi da un errore e qui c'è sempre di mezzo questa conversione automatica che è bella ma ogni tanto rischia di darci problemi ok? quindi qui ho finito in realtà e visto che è un'espressione devo mettere la trapparenza di tonde abbiamo detto le arrow functions e scrivo solo un'espressione e questo è il valore di ritorno se apro la graffa devo scrivere return a meno b ok? e qui ho finito ho finito e posso anche provarlo quindi salvo non dimenticatevi di salvare avete visto rispetto a prima è ordinato meno 12 meno 3 meno 1 0 4 10 eccetera ho ordinato ho ordinato un vettore const no il vettore non è const i vettori gli array non sono const è riferimento all'array che è const io non posso scrivere modified scores uguale a qualcos'altro dopo che l'ho definito se ci scrivo const ma quello che è puntato dal riferimento posso modificarlo quando mi pare ok? quindi potevo anche scrivere let va bene però diciamo per ora non ho bisogno di modificare lo metto const indica si lo fa perché ha chiamato il metodo sort e il metodo sort ogni volta che deve confrontare due elementi fa a meno b e sulla base del risultato quindi positivo 0 negativo decide se metterlo prima o dopo ok? se io faccio b-a b-a e allora devo chiamare ovviamente il sort meno ordine a rovescio se mi invento un'altra funzione di confronto userà quella funzione di confronto e finché non li trova tutti in ordine non ritorna la sort ok? ok grazie della domanda ogni tanto così spezziamo un po' il ritmo e la come dire la noiosità della spiegazione se così vogliamo dire ok? ok a questo punto allora abbiamo gli elementi ordinati dobbiamo eliminare i i più bassi no? cioè i negativi anzi scusate meno 12 meno 3 meno 1 0 0 forse lo ottenevamo cosa che abbiamo scritto nel testo ho già troppe finestre aperte io ho cattiva abitudine a aprire 1000 finestre eccola qua allora eliminare tutti gli score negativi ok? quindi diciamo minori di 0 lasciamolo 0 allora come facciamo a eliminarli dal vettore allora un vettore si può modificare sostanzialmente con le funzioni che abbiamo visto che agiscono sui vettori sugli array un'altra volta abbiamo visto una serie di funzioni dove erano? va bene shift unshift cioè unshift ci toglie degli elementi potremmo fare 3 unshift all'inizio fare un ciclo girare sul vettore vedere finché è negativo fai unshift facendo attenzione perché queste cose sono sempre un po' rischiose perché se modifico il vettore mano a mano che lo scorro devo fare molta attenzione a come lo scorro con un for non ho idea che funzioni perché se io faccio un for tipo c e ho la length all'inizio questa length mi cambia mano a mano che elimino elementi e quindi vado alla fine ad un punto che magari è fuori dal vettore quindi occhio a queste cose ma se volete dilettarvi a fare qualche prova potete provarci io però vi consiglio di usare qualche metodo un pochino più raffinato così entriamo appunto in questa famosa logica javascript c'è questo metodo splice che è abbastanza usato in javascript sugli array perché fa un po' di tutto lavora in place quindi modifica l'array non ne crea uno nuovo ok ci sono altri metodi come join ne creano uno nuovo lo ritornano e fine noi vogliamo modificarlo quindi ci piace avere un metodo cioè vogliamo avere un metodo in place come ha fatto la sorte la sorte era in place non mi ha creato un nuovo array mi ha modificato l'array mi ha cambiato gli elementi dentro l'array ok splice prende questi parametri index quindi rimuove degli elementi da un array a partire dall'indice per un certo numero e poi aggiunge degli elementi no e opzionalmente li rimpiazza ok con gli elementi i valori che gli metto quindi è un metodo che è abbastanza potente fa un po' di tutto ovviamente qui non c'è scritto così nel dettaglio come sempre se avete dei dubbi mdn javascript no mdn vabbè javascript splice ok array splice e qui c'è tutta la spiegazione con anche degli esempi perché ovviamente non è proprio intuitivo questo metodo quindi 4 partire da 4 ne prendi 1 lo togli e gli metti may quindi 4 4 è l'indice e quindi 4 è il quinto elemento quindi questo è la maniera di usarli e c'è tutta la spiegazione eccetera quindi non ci vieta di giocare di mettersi lì a fare let u uguale a 0 while i minore di vettore punto length a giocare con che so unshift eccetera si può fare provate per conto vostro ma se io mi metto qui a programmare in questa maniera poi rifacciamo il corso di c e non abbiamo imparato niente di javascript ok però se siete curiosi a casa provate vedrete funziona allora modified scores quindi io posso fare splice mi serve l'indice che in realtà in questo momento non ho io vorrei sapere a che punto devo tagliare questo indice non ce l'ho no in realtà l'inizio ce l'ho è da 0 ok e il count che non ho cioè non so quanti eliminarne ok perché se l'ho ordinati i minori i negativi saranno a sinistra a partire da 0 se metto count 0 non farà niente questo metodo quindi mi può anche andare bene se non ci sono numeri negativi questo numero di questo valore di numeri negativi avevamo detto che lo chiamiamo nn e allora facciamolo nn lo mettiamo let nn uguale mettiamo un attimo 0 per comodità ok quindi questa splice 0 0 in realtà non fa nulla se mettiamo 0 1 facciamo una prova così proviamo il metodo splice mi ha tagliato via il primo ok da 0 per un valore se metto 3 mi taglia via i 3 valori ok ci resta da calcolare n quindi proviamo pure 3 mi taglia via i 3 valori però io il 3 non è che lo conosco il 3 adesso ho guardato i numeri erano 3 però lo voglio calcolare il 3 come faccio devo farmi un giro sull'array ordinato e trovare qual è la posizione nella quale c'è il primo elemento che non è negativo quella lì è la posizione che tra l'altro mi viene più comoda anche per dopo come faccio i fissati del for faranno for et uguale 0 eccetera oppure i meno fissati già mezzi javascript faranno for val of modifies scores proviamo a scriverlo dai una volta almeno questo è mezzo javascript cioè no è javascript però come logica è mezzo javascript diciamo let pos uguale no let nn c'è già scusa questo è l'nn let nn uguale a 0 partiamo da 0 for let val o anche possiamo fare anche il cost no const val of modifies scores if cos'è val maggiore o uguale a 0 break no break e però però non so che punto sono no quindi in realtà devo fare else nn più più giusto se no vado avanti in realtà mi sta andando avanti il ciclo per i fatti suai ma in più io mi tengo il mio contatore quindi come se avessi scritto lì uguale a 0 e così via facciamo un po' la prova vediamo se ho fatto una cavolata no mi è venuto giusto no quindi nn facciamoci console.log nn console.log nn quindi nn viene 3 questo è il classico no un po' javascriptizzato se così possiamo dire perché abbiamo fatto questo for of ma non ci piace ancora perché 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 javascript ha un altro stile vediamo se c'era sulle slide index of no index of abbiamo oppure vabbè ci sarà il find index che ci serve di più però vabbè comunque diciamo che c'è un metodo che è in grado di cercarci qualcosa in un array usiamolo no in realtà index of non so se ci viene comodo proviamo vediamo se ma no passiamo sempre da google che se no non finiamo più mdn cosa vuol mdn array index of perché non scrive mdn index of ok vediamo se è quello che fa per noi ritorno al primo indice al quale un certo elemento può essere trovato nell'array ma io non devo cercare un elemento io ho una condizione non ho un elemento da cercare ok non so che elementi ci siano non so se c'è meno 2 meno 3 meno 5 io voglio l'elemento non negativo allora cosa faccio non c'è sulle slide non è che c'è tutto sulle slide però google un pochino ok che è quello che dovrete poi fare voi fondamentalmente quindi diciamo array javascript find first non negative value no che è quello che stiamo cercando poi su gpt magari gli parlate anche e vi da anche il codice adesso questo non lo so visto che va tanto di moda e esce stack overflow allora diamo un'occhia e lo faccio giusto per farvi vedere come potete procedere per conto vostro e beh se no ho la soluzione lì ve la copio e abbiamo finito però allora e primo risponde in una maniera che se potessi farei meno 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 cioè questo è c no var poi var mi fa venire i capelli dritti va bene allora c'è qualcuno che ha qualche metodo furbo degli array no qui non c'è nessuno che sa programmare javascript va bene cambiamo torniamo indietro index of ecco questi già che mi linkano la mdn mi fanno sentire un po' meglio proviamo a mettere mdn example che ne so qualcosa find find già mi piace di più ritorno al primo elemento che soddisfa la funzione che fa il test questo già mi piace perché io ho la possibilità di scrivere una funzione no io scrivo una funzione in cui dico vero se non è negativo o zero no se nessuna funzione soddisfa la funzione va bene mi ritorna a undefined se no mi ritorna l'elemento peccato che a me serve l'indice non l'elemento ma ci siamo quasi eh find ok questo è l'esempio no io cercavo element maggiore di zero questo mi scorre l'array mi dice 12 maggiore di 10 si tac me lo da ma io voglio l'indice e se non me lo da la funzione non me lo da io o mi scrivo il codice io o mi attengo alle funzioni che ci sono però mi illumino e sotto c'è find index eh se non vi illuminate continuate su google find index ritorna l'indice del primo elemento in un array che soddisfa la funzione di test fornita oh è quello che voglio no perché io fornisco una funzione di test che so elemento maggiore di 13 qual è il primo elemento maggiore di 13 è 12 e lui mi ritorna is large number maggiore di 13 ah si scusa non è 12 5 12 8 130 no è quello in posizione 3 in indice 3 ok e così intanto dall'esempio vedo anche come si fa io passo una function come ho fatto prima con la sort ok quindi array find index torniamo nel nostro codice questo via quindi no let nn va bene modified score find index avverta tonda arrow function se sono piccolina cerchiamo di scrivere come arrow function perché facciamo prima ok ok che variabile vi piace x l e l boh non lo so quello che vi pare l tanto questa è una variabile temporanea esiste solo per la arrow function l freccia l dunque io volevo il primo che fosse maggiore o uguale a 0 ok questa roba funziona sintassi javascript corretta infatti se vi fa l'highlighting e non siete convinti provate a eseguirlo perché ogni tanto l'highlighting ci mette un po' a capire se le cose sono giuste eh ho risolto il mio problema cioè vi faccio notare la differenza tra questo codice e quello di prima eh quello di prima era una roba non voglio dire inguardabile è programmazione però non è certo lo stile javascript come r2 ctrl y ok notate bene mi raccomando non voglio che ci perdiamo cioè tutti siete capaci di risolvere questo esercizio un esercizio da fondamenti informatica no potremmo dare un po' semplice come tema d'esame beh c'è già la sorta al primo anno però eh come dire non è così complicato no quello su cui vogliamo focalizzarci è fare attenzione a queste cose abbiamo scritto un arrow function abbiamo scritto un arrow function nella forma più compatta e breve possibile un unico parametro non servono le tonde come prima secondo il valore di ritorno è direttamente un'espressione non ci mettiamo neanche le tonde intorno ok eh se non crea ambiguità si può fare ed è un'espressione booleana va bene no eh l'importante è che la pagina in manuale ci dica eh l'array che soddisfa la testing function forse qui non è così esplicita callback ecco qui vedete la chiama callback questa qui è una callback ma non è niente di diverso da una funzione normale e solo per il nostro commento in Italia la chiamiamo callback perché? perché è una funzione che passiamo a un'altra funzione che quindi verrà usata dall'altra funzione non ha nessuna closure non c'è nessuna closure da fare ma meno male eh in shoot return è trutti value per dire che ha fatto il match no? noi abbiamo messo un'espressione booleana quindi per forza sarà un valore trutti o falsi perché è un'espressione booleana e quindi non c'è neanche da fare la conversione benissimo quindi qui abbiamo tagliato l'array a questo punto cos'è che dovevamo fare? dovevamo fare l'operazione di eliminare i due score ah questa me l'era persa vabbè adesso la lasciamo da parte vabbè se no facciamo due unshift e arrivederci ok? si ma facciamoli dai si mi dica mi dica intanto nn sarebbe undefined mi sa di si 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 e quindi dobbiamo fare un po' attenzione ai bug si ok è giusta l'osservazione del vostro collega e adesso vediamo cosa succede eh facciamo la prova e ci no non è undefined birbone andiamo a vedere la pagina in manuale ma allora ritorno altrimenti ci ritorno meno uno ci ritorno meno uno e ci ritorno meno uno e ci è andata di fortuna lasciatemi dire sulla splice e gli do un numero negativo di elementi a cancellare non mi protesta non mi dà eccezione non mi fa niente ma funziona lo stesso e ci è andata di fortuna ok? va bene però è giusta osservazione adesso stiamo un po' programmando poi ovviamente sapete programmate sperate di far giusto fate un po' di test e e poi magari incocciati in un bug e debuggate e vedete come va eh ok lasciatemi saltare questo no ma mettiamolo l'anshift va unshift ok l'anshift elimina un elemento dall'inizio non ritorna nulla cioè forse ritorna qualcosa ma modifica l'array in place quindi dunque cos'è che faceva modify score and shift and shift che il mattino non va shift forse sì dove erano shift abbiamo visto shift l'anshift inserisce sì scusate avete ragione quindi è chiaro che serve un po' di esercizi ok quindi taglia via ok però di nuovo vale l'osservazione di vostro collega se non ci sono e devo un attimo vedere cosa dice la pagina di manuale fare attenzione eventualmente fare il test per la lunghezza insomma decidere cosa fare lasciatemi tirare via un attimo così non abbiamo il bug perché voglio farvi vedere che va bene programmare il javascript non è che sia tutto sempre pronto perché poi vogliamo aggiungere nn più 2 voti alla fine dell'array con un valore uguale alla media arrotondata dei voti esistenti che sono rimasti ok come facciamo a calcolare la media non ho nessun trucco qui quindi tranne il for of non ho nessun trucco quindi non c'è nell'mdn negli array min come metodo forse c'è no min nel senso di media non so se c'è min minimo e massimo un po' di assi che ci siano non lo so in certi linguaggi ci sono e qui non c'è quindi cosa faccio const val of modify the scores e faccio una media avete imparato a fare una media come si fa si fa la somma e si divide per il numero quindi average più uguale val in realtà average va inizializzato let average uguale 0 e poi dividono quindi average uguale average spostato diviso la lunghezza no perché qui non sto contando non ho l'indice quindi modify score punto length ok questa è la media e la media me la calcolo c'è un for amen ok quando facciamo una programmazione funzionale possiamo divertirci con reduce ma lasciamo perdere faremo e poi e poi devo aggiungere gli elementi al mio array e ne voglio aggiungere quanti nn e come faccio a creare un array di nn elementi e questo è un po' diciamo facciamo così const add array non so array da aggiungere se io lo sapessi li metterei già dentro però non lo so faccio un array vuoto e poi cosa faccio mi metto a fare il for con il push boh si può fare sì sì per carità non c'è niente di di male e se non ho un'alternativa lo farò farò for let i uguale 0 let i minore di nn i più più add array push e ci metto i valori ok va bene ovviamente ieri volevo stupirvi e quindi oggi facciamo così array nn perché perché se andiamo sulla m di n array diciamo così constructor prende come valore il numero di elementi dell'array e quindi array dandogli un numero mi crea un array di un certo numero di valori che non però non so quali siano ok saranno undefined non lo so non ho neanche letto la pagina di manuale perché poi ci faccio su fill average ok giusto per farvi capire che ogni tanto ci sono questi metodi che possono darvi una mano a scrivere il codice un po' più rapidamente in javascript ok ok e adesso devo appiccicarlo al mio array come faccio allora un metodo però mi crea un nuovo array e non mi modifica quello vecchio è crearne uno nuovo appunto modifiscores2 uguale come si fa a appiccicare in stile javascript tre puntini modifiscores tre puntini added array ok questo è stile molto javascript ho creato un array in fase di inizializzazione ci metto dentro tutto quello che mi serve uno dietro l'altro basta mettere il primo al primo poi il secondo con sto log modifiscores2 vediamo che roba esce no non ho salvato occhio eh c'è il puntino non ho salvato se non salvo la media era 9,2 mi ha messo tre valori 9,2 alla fine va bene ok in realtà avevo detto arrotondati da qualche parte ci sarà la funzione per arrotondare non lo so sarà mat round non lo so tiriamo a caso vediamo un po' se c'è round ok ogni tanto tirando a caso probabilmente funziona 9,99 ok e questo è il console log io prego che la console log mi stampi un valore numerico come intero se intero perché sapete che in javascript abbiamo detto ci sono i numeri e non ci sono i float gli int e così via ok va bene però il modifiscores2 non mi piace perché avevo detto io volevo cambiare il modifiscores volevo fare tutto in place dentro l'unray ogni tanto avete bisogno di fare queste cose perché magari l'array non potete creare uno nuovo e passarlo ok e allora e allora cambiamo idea io ho detto prima lo splice fa di tutto per cui è bene impararlo bene quello splice che abbiamo usato prima per togliere possiamo anche usarlo per aggiungere perché se noi mettiamo alla fine dell'array quindi posizione la prima cosa è start posizione modify scores punto length virgola il numero di elementi che voglio aggiungere e poi gli elementi posso farlo ok no lo zero è no il delete il delete è zero scusate e poi metto gli elementi non c'è bisogno di contarli se li conta la funzione come faccio a metterli occhio non posso fare così questo funziona ma non fa quello che voglio io proviamolo ops cosa è successo add array ah si stampavo l'altro il vecchio questo mi ha messo un array dentro un array non è quello che voglio ok non è quello che voglio la splice andiamocela a cercare ancora una volta per fortuna internet è veloce stamattina prende elementi 1,2,3,4 però io ce l'ho a sistema per enumerare gli elementi di un array l'ho usato ampiamente tre puntini questo array viene espanso in una serie di valori io ho quello che voglio io ok questo è abbastanza idiomatico di javascript non è che io penso che voi andate in laboratorio la prossima settimana e puff programmate in questa maniera bisogna prenderci la mano ci va un po' di tempo però insomma sapete programmare quindi non è che avete dubbi su devo usare un for devo usare un if devo usare un while come dove metto gli indici eccetera cioè il corso di fondamenti informatica l'avete fatto tutti anche qualche corso avanzato quindi su quello non avete dubbi dovete prendere la mano ai metodi e al sistema di javascript passare passare le callback questa è una cosa che faremo di continuo ok e e e e e e fare un po' attenziale appunto a questi operatori che sono abbastanza potenti se usati bene ok avrei voluto farvi il secondo esercizio non ve lo faccio però prima di lasciarci devo farvi vedere una cosa queste sono le stringhe quindi è abbastanza simile adesso poi ci penso sento i miei colleghi se sono andati avanti e sono riusciti a farlo vi metto la rinossoluzione poi al massimo gli do un'occhiata la prossima volta vi voglio far vedere la cosa delle date perché poi mi vi piantate su una libreria come installo la libreria seguiamo le istruzioni installiamo dei js ok installiamo dei js e quindi dobbiamo seguire le istruzioni le istruzioni dicono nella console nella directory che mi interessa perché poi la libreria sarà disponibile lì dentro e sarà la directory del vostro progetto diciamo così npm init npm è un comando che vi viene installato insieme a node quindi ce l'avete tutti se avete installato node è il package manager di node cioè quello che installa le librerie diciamo così se non abbiamo mai fatto dobbiamo fare la prima volta in ita di crearsi i suoi repository di librerie perché le librerie sono locali del progetto qui ci propone un po' di cose va bene diamo tutto invio e va bene ok a questo punto possiamo fare npm install e installiamo le librerie installiamo quello che vogliamo noi e si chiama dayjs qui vi diamo noi il nome se no cercate di uno su internet eccetera qualcosa che vi aggradi lo installate se poi non vi piace la potete disinstallare quindi non è che dayjs questo si collega a internet c'è bisogno di internet va a scaricarsi nel reposito ufficiale di npm e l'ha installato cosa è successo è spuntato una directory speciale node modules dove si andranno a mettere dentro le librerie ma noi non la guardiamo al massimo che facciamo la cancelliamo se vogliamo mutar via tutto e di solito può anche essere molto grossa perché c'è tutto il codice delle librerie eccetera e poi è spuntato un package json dove ha scritto che il nostro progetto usa dayjs e va bene però ho fatto tutto da solo non è che c'è nient'altro da fare ok quello che voglio farvi vedere è come usarla quindi dobbiamo usarla è quasi finito il tempo ma abbiamo finito se io voglio usare le date devo mettere come scritto sulle slide cost dayjs uguale dayjs e da quel momento lì posso usare tutto quanto ok quindi c'è forse un altro file l'avevo già preparato prima ah però lo devo portare dentro gli exercices ok se no non vede il dayjs quindi dayjs requite dayjs e poi uso ok uso cos'è questo dayjs è l'oggetto ritornato dal modulo dayjs creato con quel pasticcio che abbiamo visto prima dell'immediate invoked function execution che incapsula tutto e tutto inaccessibile mi da dei metodi no uno è diciamo il suo per chiare la data corrente se no ci sarà dayjs punto qualcosa posso posso andare a usare gli altri metodi proviamolo per vedere solo che non ho fatto pasticci dayjs ok è uscita la data corrente data ora corrente poi si se il progetto è nuovo in una nuova cartella si se invece lei continua a lavorare nella sua cartella ha la sua libreria installata e quindi le basta importarle con questo require dentro il suo file ok ok grazie alla precisazione mi spiace che non abbiamo tempo per domande ma se avete fermatevi io vi rispondo volentieri ci vediamo la prossima settimana e adesso vedo vi metto online questi file che abbiamo pacioccato oggi e la prossima settimana eventualmente guardiamo l'altra soluzione grazie